Musica Le linee guida per la ripresa delle attività scolastiche indicano un rientro per il Veneto il 12 settembre all'insegna della normalità e per certi aspetti ai tempi del pre-Covid. Abbiamo sentito in merito Pier Giorgio Sartori, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Due lettere indirizzate al Presidente della Repubblica e alla Ministra Cartabia. A scriverle sono le detenute di Torino e Verona, che chiedono più umanità nelle carceri. Precauzioni e suggerimenti per contenere il virus West Nile del Nilo occidentale, che conta in Veneto 227 casi. Ben trovati a tutti voi da Telepace News. Come abbiamo sentito nei titoli, le linee guida per la ripresa delle attività scolastiche indicano un rientro per il Veneto il 12 settembre all'insegna della normalità. Per certi aspetti ricordano il periodo pre-Covid. Ne abbiamo parlato con Pier Giorgio Sartori. L'anno scolastico 2022-2023 si apre all'insegna di una ritrovata normalità, dopo la pubblicazione del Vademecum del Ministero dell'Istruzione in merito ai dispositivi di protezione. Tra le novità l'abolizione delle mascherine, ad eccezione di casi di particolare fragilità e il superamento della DAD, la didattica distanza. Speriamo che sia un anno all'insegna della normalità. Abbiamo proprio bisogno di tornare ad essere normali, guardarci il viso, le espressioni. Quindi speriamo che sia un anno all'insegna della normalità. Il protocollo Covid sarà molto alleggerito, poi speriamo che la curva non dimostri una recrudescenza. Però sarà un anno dove non sarà più bisogno, se non per gli alunni e i lavoratori fragili, non ci sarà più bisogno di mascherina. Il distanziamento non sarà più vincolante. Ecco, un anno all'insegna, speriamo, dell'agoniata normalità. Tra i nodi che restano quelli degli orari delle lezioni e dei trasporti, come succede alle scuole primarie, con le lezioni di attività motoria. Ci sono alcuni nodi che andranno, come dire, affrontati quest'anno. In primis, soprattutto agli istituti comprensivi, c'è il nodo alla scuola primaria, al tempo normale, quindi alle 27 ore, ci saranno due ore in più di educazione motoria. Quindi vuol dire che i bimbi staranno a scuola più a lungo per fare, appunto, educazione motoria con un docente specialista. Però, in questo caso, più ore di scuola, bisogna di contrattare con l'ente locale il problema dei trasporti. Quindi un rientro in più, chi ci sarà che li riporta, i genitori. Quindi questa è una cosa che va sicuramente affrontata, considerando che mancano ancora da parte del Ministero delle linee operative sull'educazione motoria alla scuola primaria. Quanto bisogno c'è per i bambini di normalità? C'è tanto bisogno di normalità, c'è proprio bisogno di vedere in faccia chi ti è vicino, di relazionarsi, perché la mimica facciale è un elemento, come dire, imprescindibile nella comunicazione. C'è proprio bisogno di tornarsi a guardare in faccia, proprio. Ed ora cambiamo argomento. Condivido in toto l'appello di Confindustria di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, lanciato dal loro incontro con i nostri assessori all'economia. Il tema del costo del gas e dell'energia non è assolutamente più inviabile, va affrontato urgentemente, perché se c'è una priorità per famiglie e imprese è quella di tagliare i costi, divenuti insostenibili anche a causa di evidenti speculazioni sui mercati. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zai, dando il suo totale appoggio alle richieste emerse dall'incontro sull'emergenza energetica tra quattro Confindustria regionali e gli assessori delle regioni corrispondenti, in cui è stato anche sottolineato che in assenza di quelle misure di contenimento dei prezzi richieste da mesi dalle imprese, sta paralizzando il sistema industriale italiano con il forte rischio di deindustrializzare il Paese, mettendo a repentaglio la sicurezza e la tenuta sociale nazionali. Faccio appello, ha concluso Zai, al Premier Draghi, l'unico a poter davvero incidere su questa partita, perché, dice, la fiducia nell'Europa resta assai limitata, visto che ancora oggi si parla molto, ma non si agisce e non arrivano risultati. L'assessore, ha intervenuto anche l'assessore allo sviluppo economico ed energia della Regione del Veneto, all'incontro di ieri, che ha sottolineato che la situazione è drammatica, dice che stiamo parlando di un costo energetico dieci volte superiore a quello del 2019. Se vogliamo fronteggiare una situazione ormai insostenibile, ha concluso, serve intervenire in modo intelligente per evitare che le aziende comincino a chiudere ciò a partire da porre un tetto al prezzo del gas e dalla revisione del PNRR. Cambiamo di nuovo argomento. Due lettere indirizzate al Presidente della Repubblica e alla Ministra Cartabi. A scriverle sono le detenute di Torino e Verona, che chiedono più umanità nelle carceri italiane. Intanto dal gruppo Facebook e Sbarre di Zucchero emergono testimonianze e richieste di sensibilizzazione da tutta Italia. Ce ne parla Marina Zarmann. Alcune righe scritte in stampatello. La richiesta di riportare l'attenzione sui problemi delle persone nelle carceri italiane e la necessità di maggiori attività a loro sostegno nel periodo della detenzione. Questi alcuni dei concetti espressi dalle detenute del carcere di Montorio e della sezione femminile di Torino nella lettera inviata al Presidente Mattarella. Un'altra lettera è indirizzata alla Ministra Cartabia da parte delle ex detenute del gruppo Sbarre di Zucchero. E le ragazze di Verona, tramite una ragazza in permesso, ci hanno fatto avere uno scritto. Che è inviato poi a chi? Al Presidente della Repubblica e alla Ministra Cartabia perché 58 suicidi sono troppi. E a parte Donatella qui a Verona ci sono stati due tentati suicidi, un altro suicidio nell'arco di un anno. Quindi veramente qualcuno deve intervenire su questa esecuzione penale. Cosa chiedete? Chiediamo un maggior controllo dell'esecuzione e proprio del modo in cui si vive il carcere. Il gruppo Facebook Sbarre di Zucchero si è diffuso a livello nazionale in queste settimane e raccoglie le riflessioni e le richieste, anche le criticità di ex detenute che chiedono maggiore umanità nelle carceri italiane. In un video una detenuta denuncia violenze subite in carcere. Le nostre ragazze, allora il suicidio di Donatella è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché tante situazioni sopportate e, come posso dire, tollerate, venivano lasciate lì. Con Donatella, perché sicuramente noi conoscendola ci siamo chiesti il perché e ancora non l'abbiamo capito. E hanno iniziato a parlare, ma parlare 20 persone che parlano ci mettono la faccia, una testimone perché bene o male nell'arco del tempo degli avvenimenti dell'altra. Quindi si sta creando proprio una forma di coraggio, un insieme di coraggio dove ci si mettono la faccia proprio i ragazzi che hanno finito, oppure qualche mese fa, un annetto fa, non persone che sono uscite 20 anni fa. E dopo due anni di pausa forzata dalla pandemia, i medici e gli odontoiatri veronesi tornano a riunirsi in presenza per la tradizionale giornata del medico e dell'odontoiatra, il momento istituzionale più importante dell'ordine che li rappresenta per la provincia di Verona. Quest'anno la ricorrenza si svolge al Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Brain, due giornate distinte, sabato 3 settembre e sabato 5 novembre. Sarà un appuntamento celebrativo e di riflessione con l'incontro tra generazioni, il simbolico passaggio di testimone tra i colleghi più esperti e i giovani neolaureati. Nel corso dell'evento del 3 settembre saranno chiamati a pronunciare il giuramento 182 neolaureati e abilitati che sono iscritti all'ordine di Verona e inoltre verranno festeggiati 41 medici che nelle stesse annate hanno celebrato il traguardo dei 50 anni dalla laurea. Un milione di euro è quanto ha destinato la Regione Veneto alla prevenzione del virus West Nile. Precauzione e suggerimenti per contenere un virus che conta in Veneto 227 casi confermati, ma che non è da considerare una vera e propria emergenza. Misure preventive a livello di comportamento per evitare le punture di zanzare, in particolare nei momenti critici al tramonto, l'utilizzo di un abbigliamento chiaro e coprente. Questi alcuni dei suggerimenti per evitare di contrarre il virus West Nile veicolato da una zanzara. Per capirne di più siamo stati all'IRX Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. È un virus che è trasmesso dalla puntura di zanzara classica Culex che punge soprattutto di sera e di notte. Ogni persona che viene punta da una zanzara infetta può sviluppare la malattia. Teniamo conto che ci sono delle percentuali stabilite che ci indicano che una persona più o meno su 150 sviluppa una forma neuroinvasiva, c'è una meningite, un'encefalite, una paralisi flaccida. Circa il 20% sviluppa una forma similinfluenzale con febbre, dolori muscolari, linfonodi ingrossati. E per l'80% dei casi invece ci troviamo di fronte a una forma completamente asintomatica. Bisogna anche dire che è più probabile che chi è in lacco agli anni possa sviluppare una forma più grave. E anche perché abbiamo visto nel report regionale che abbiamo ogni settimana dalla nostra prevenzione veneta l'età media dei decessi è intorno agli 80-85 anni. È una situazione che si sta verificando in alcune zone più che in altre. Si stanno già mettendo in atto delle pratiche per cercare di eliminare questa zanzara che porta al virus. Però ecco, importante è capire che non è un'emergenza ad oggi. Abbiamo quindi registrato un 14 decessi. Ci sono diverse persone con una forma neuroinvasiva. Però noi sappiamo che è un virus che circola ogni anno nel periodo estivo. Quest'anno abbiamo più casi degli anni passati. Per cui bisogna continuare a monitorarlo, però non far scatenare panico o allarmi. Quello che ognuno di noi può fare, non essendo disponibile un vaccino, è quello di cercare di evitare la puntura di zanzara. Questo vale soprattutto per le persone oltre i 60 anni che sono quelli più suscettibili di una forma grave. Per cui utilizzare dei repellenti, soprattutto nel periodo del tramonto della sera, montare delle zanzariere, togliere i vasetti d'acqua vicino, insomma, nei giardini delle proprie case. Cioè cercare tutte quelle, diciamo, opzioni che riducono il rischio di essere punti dalla zanzara Culex. Al momento non esiste ancora un vaccino per gli uomini, ma si prosegue con la ricerca. Ecco lo stato delle cose. Sono in corso degli studi per sviluppare un vaccino che al momento non è disponibile, quindi aspetteremo che arrivi negli anni prossimi. C'è un vaccino disponibile soltanto per i cavalli in questo momento. Non c'è un trattamento. Nel momento in cui io sviluppo una forma febbrile o una meningoencefalite, necessito soltanto di un trattamento di supporto perché non c'è un farmaco specifico, per cui questa è la situazione del West Nile in questo momento. Ed ora ci spostiamo nel Veronese, a Legnago. Il Comune, che assieme all'Associazione La Verbena dell'Adige, sono riusciti a far partire i primi PUC, ovvero i progetti utili alla collettività, attività come interventi sulla red urbana o pulizie di strade e marciapiedi, che vengono proposti ai cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza. Questa misura straordinaria governativa di aiuto alle persone più povere e dal punto di vista dell'erogazione dei finanziamenti, già attiva da un paio d'anni. Proprio il lungo iter per cercare e formare la forza lavoro da destinare a svolgere mansioni di pubblico interesse o necessità, ha permesso soltanto in questi mesi di far decollare i primi progetti della bassa. Sono stati 12 le persone che hanno aderito. I primi sono in maggioranza uomini, sia italiani che stranieri, a cui si affiancano 5 donne, di cui due nate al di fuori dei confini italiani. E da domani, data in cui si celebra la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, e fino al 4 ottobre, giorno della festa di San Francesco d'Assisi, i fedeli di tutto il mondo sono invitati a momenti di incontro, di preghiera e ad assumere degli impegni concreti per il creato. A Verona l'apertura di questo tempo speciale verrà nella cattedrale, con la Santa Messa delle 18.30 di questo giovedì domani. Durante la celebrazione eucaristica e il rosario, previsti all'interno della novena della Madonna del Popolo, si pregherà per il creato e verranno indicate le iniziative proposte in diocesi. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Telepace e Radio Pace. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che questa edizione, come le altre, potete riascoltarle sul sito www.telepace.it. Buona serata. Grazie a tutti.